I tre finalisti sono DOP ho fatto un corso di tedesco, NICHT DEN BODEN BERÜREN e mille papare di rossi Allora, sta a me dare il nome del vincitore della prima sezione cortometraggi scuola The winner is, era una vita che volevo dire questa frase Anzi, la dirò in inglese per frate The winner is NICHT DEN BODEN BERÜREN Complimenti Premiazione serie WEB I finalisti sono ORORO BACQUI, DEJA VU e BODY COUNT Grazie per la lista, allora a te, a te Manuela, il compito di dare il vincitore The winner is NICHT DEN BODEN BERÜREN Ah, lo posso dire, in inglese proprio come hai detto tu Yes, baby Attenzione The winner is BODY COUNT E' DAI Passiamo a qualcos'altro Sì Che a me piace molto Sì, andiamo su qualcosa di più leggiatore Animazione I tre candidati sono... Hai la lista? Hai la lista? Mi so a memoria Non come noi Ma te li sa La lista è la frase The winner is WEDDING CAKE Che sarebbe TORTA DI MATRIMONIO Sezione DOCUMENTARI Allora, i tre candidati Un altro mondo Minerida E fermare Green Hill Allora, vai con il win The winner is Minerida Il titolo di quello che verrà premiato Sempre nella sezione DOCUMENTARI È 29200 o 29200 PUTOD L'altra verità della realtà RITIRA Federico Angi Il regista Sezione cortometraggi Ti dà i tre nomi dei finalisti Tutte e due Tutte e due, prego Hai tweet? Hai tweet? Non facciamo finire la festa E... Le Gran Bleu Le Gran Bleu Allora Ok Grazie Ok Vai tu The winner is... Le Gran Bleu The winner is... L'arbitro L'arbitro Volevo ringraziare innanzitutto i... I partecipanti di questo festival I veri protagonisti Che sono tutti partecipanti Finalisti, non finalisti E vincitori Senza di loro questo festival Ovviamente non si poteva fare Quindi grazie di cuore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti